Un campo con tanti ricordi di una stagione che è stata importante per noi e anche oggi siamo venuti qua a fare una bella partita contro una squadra formata da giocatori forti ed è stato un buon allenamento. Un applauso sprutto per tanti giovanotti del secondo tempo che si sono dimostrati l'altezza della situazione quindi continuiamo a lavorare così perché la strada è quella di successo. Il prossimo step di preparazione? Adesso ci chiamo giovedì a Sedriano e poi domenica un'altra amichevole e andiamo avanti così.